è Cesare Battisti è Cesare Battisti il ghibellin fuggiasco Cesare Battisti il ghibellin fuggiasco è l'italiano l'italiano Cesare Battisti che è stato condannato dalla magistratura italiana per diversi omicidi e che poi è evaso dal carcere è scappato in Francia è stato accolto in Francia come rifugiato politico poi è scappato in Brasile è stato accolto in Brasile come rifugiato politico e che adesso il Brasile intende restituire all'Italia per cui Cesare Battisti continua a scappare è scappato Cesare Battisti allora siccome è una questione interessante questa qua di Cesare Battisti perché non si capisce come mai la Francia lo abbia ospitato per tanti anni poi non si capisce come mai il Brasile l'abbia ospitato per tanti anni la Francia non è uno stato mafioso la Francia è la patria di libertà, galità, fraternità se la Francia l'ha ospitato Cesare Battisti ci sarà un motivo se il Brasile l'ha ospitato Cesare Battisti ci sarà un motivo poi è cambiato l'orientamento politico in Brasile e allora il Brasile è pronto a restituire Cesare Battisti alla giustizia italiana per cui Cesare Battisti è fuggito è fuggito, si dice irreperibile irreperibile che belli infugiasco come si diceva di tanti anni ieri nel 1300 allora gli ho detto ma andiamo un po' a vedere com'è sta faccenda e sono capitato su una ricostruzione di tutta la vicenda esistenziale e giudiziaria di Cesare Battisti io ho questa ricostruzione esistenziale e giudiziaria della vicenda di Cesare Battisti l'ho trovata sul web journal intitolato Il Post e questa notizia io ve la lascio come link riassunto di questo video così voi potete fare tutte le vostre particolari valutazioni beh qua si scrive si scrive è scritto nero su bianco carta parla e villandormi si è scritto così le sentenze di condanna contro Cesare Battisti si basarono quasi esclusivamente capito? quasi esclusivamente sulle testimonianze di Pietro Mutti collaboratore di giustizia e suo principale accusatore Cesare Battisti però sostiene che Pietro Mutti un delatore premiato parlò sotto tortura quello che ha messo in mezzo me è uno solo si chiama Pietro Mutti scaricando tutto su di me invece di prendere lui alcuni ergastoli ha preso pochi anni di galera ubidendo alle indicazioni di un procuratore della Repubblica qua si dice che tale procuratore della Repubblica era Armando Spataro NDR nota di redattore e nella ricostruzione che Pietro Mutti e altri testimoni fecero dei delitti che portarono alle condanne di Battisti di Cesare Battisti ci furono effettivamente dei passaggi poco chiari e Pietro Mutti cambiò più volte versione prima e dopo il processo eccetera 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 per cui ah questa notizia è attualissima è una notizia attualissima fatta dal web journal il post è attualissima è dell'altro ieri e io mi sono soffermato appunto su quanto scrive il post qua le sentenze di condanna contro Cesare Battisti si basarono quasi esclusivamente sulle testimonianze di Pietro Mutti collaboratore di giustizia e suo principale accusatore e solo su testimonianze e prove oggettive Cesare Battisti sostiene che Pietro Mutti un delatore premiato parlò sotto tortura quello che ha messo in mezzo me è uno solo si chiama Pietro Mutti scaricando tutto su di me invece di prendere alcuni ergastoli ha preso pochi anni di galera ubbidendo alle indicazioni di un procuratore della repubblica qua c'è scritto Armando Spadaro ecco cari amici io no 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 altro non so io altro non so mi pare di aver saputo mi pare di aver saputo che alcuni stati sudamericani che non sono d'accordo con l'attuale orientamento politico del Brasile c'è il nuovo presidente e vorrebbero accogliere accogliere Cesare Battisti e magari nominarlo come ambasciatore si dice no che ambasciatore non porta pena e poi Cesare Battisti come ambasciatore protetto ermeticamente dalla immunità dall'immunità degli ambasciatori e potrebbe venire in Italia a fare ambasciatore sapete questi sono i ricorsi storici cari amici io cosa volete che vi dica io ho detto delle cose perché mi sono basato sul web journal post se non siete d'accordo con me non ve la prendete con me e prendetevela col web journal post non dite le parolacce a me capito perché il web journal post fa una ricostruzione esistenziale e giudiziaria di Cesare Battisti è davvero interessante e leggetevela pure voi questa ricostruzione perché io ve la metto come l'ignore assurdo del mio video capito e se avete da dire delle parolacce non le dite a me perché io mi sono basato sul web journal post verba volante scripta manent d'accordo? io mi vado sempre sugli scritti d'accordo cari amici perché sapete chi sono io? io sono questo qua vedete? questa è la mia storia della filosofia e questo è il mio celebre pamphlet internazionale from matriarchi to patriarchi vedete? from matriarchi to patriarchi ok? ok cari amici a tutti dann